L'albicocca è una pianta originaria della Cina nord-orientale, al confine con la Russia. La sua presenza, data più di 5.000 anni di storia, oggi è diffuso in oltre 60 paesi e viene coltivato in climi caldi e temperati o relativamente asciutti. La pianta in sé non patisce il freddo e sopporta temperature davvero rigide, tuttavia fiorisce molto presto rispetto a quasi tutti gli altri alberi da frutto. L'albicocca è ricca di vitamina B, C e PP, ma soprattutto di carotenoidi, precursori della vitamina A. Duetti di albicocche fresche forniscono il 100% del fabbisogno giornaliero di vitamina A di un adulto. A Rotondella la sagra dedicata a questo delizioso e nutriente frutto torna protagonista. Giunta alla 19esima edizione, sabato 20 e domenica 21 giugno ha visto la presenza di numerosi estimatori, non solo, si è tenuto anche un convegno tecnico. Questa iniziativa, secondo il sindaco Agresti e l'assessore regionale all'agricoltura Luca Braia, mira a valorizzare un prodotto d'eccellenza, inoltre a promuoverlo oltre i confini regionali. Questo importante evento ha visto anche la presenza di numerose aziende agricole impegnate appunto nella coltivazione.